Perché quello è un treno che parte, hai respaccato? Da quello ore 15 parte? Ah, ho capito, ho capito. Ma è l'unico treno che c'è? Ma lui mi ha fatto capire, fammi vedere, fammi cosiare. Ma quello è un treno che parte da lì. Sto ammazzati la cervella. Sto ammazzati la cervella. Hai creato un mostro, hai creato. Che no, ti vedi i mostri che stanno qua. Quello stamattina mi ha aspettato, che ti mi dimentico tutto e poi ce ne andiamo a Milano. Vuole fare la Champions, eh?